Musica Tutto pronto appena cominciato il match tra i ragazzi dei Boca Juniors e i ragazzi dei Black Angels Gara con tasso tecnico elevatissimo vediamo il match che emozioni ci regalerà buon calcio a tutti Ancora Capalbi può andare in contropida chi lega palbi doppio passo a larga destra per il Gallo Sirano Ancora Sirano palla ceduta a Paudice Paudice che numero Paudice De Luca Sirano allarga a sinistra per Capaldi che si accenta Capaldi De Luca dice di no 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 Cananzi Ci pensa Canzian va a sbloccare il match Il gol dell'1 a 0 del Black Angels da parte di Raffaele Cananzi Finisce qui il primo tempo 1 a 0 Arrivederci ad arrivare Tutto pronto è appena cominciato il secondo tempo Tei ragazzi dei Black Angels il vantaggio per 1 a 0 contro il Boca Juniors Adesso vediamo i ragazzi come risponderanno Casaburi Ha provato con il mancino Guarda che è terminata fuori Ah E sta c'è di video qua E spiegagli bene la situazione Luca Palla in mezzo Attenzione Paudice Forse un po' di buccia da parte dell'estremo difensore Dei Boca Juniors C'è dunque la rete della 2 Non ci posso credere Incredibile Capaldi Provo ad andare Ancora Capaldi Il destro del Luca Sono proiettili Noi li devo fare Il destro Paudice Sotto la grandine Proprio lui Paudice Buon Natale a tutti Il gol del 3 a 0 Incredibile Vediamo ancora Il calcio di punizione Se ne è in carica Casaburi In diretta Ancora Casaburi Va a segnare il gol del 3 a 2 Ancora Casaburi Accorcia le distanze Campoli di match Ancora Paudice Il doppio passo Per Sirano Sono scomparse anche le linee Del fallo laterale Del fallo laterale Paudice Paudice La chiude lui in diretta su Facebook Va a segnare il gol del 4 a 2 I Black Angels Riportano i propri giocatori sul doppio vantaggio C'è gente anche nuda C'è gente anche nuda fuori allo sbogliatoio Incredibile Nonostante la grandine Casaburi Palla fuori Palla fuori Stiamo assistendo a qualcosa di storico Quest'oggi Può andare in contropiede Nulla di fatto Ancora Capaldi Prova ad andare Ancora il galo Sirano E finisce qui La vittoria Dei Black Angels Davvero una gara Senza precedenti Grazie a tutti Per averci seguito Dal torneo San Nazaro è tutto Giovanni Sorrentino vi saluta Linea allo studio